Dopo tre anni torna il derby, Regina Cosenza, circa mille tifosi presenti al granillo, prima del calcio d'inizio un minuto di silenzio per ricordare Iole Santelli, presidente della regione Calabria, scomparsa prematuramente qualche giorno fa, arbitraros della sezione di Pordenone. Gara molto tattica ed equilibrata, succede poco fino al trentaquattresimo, c'è l'incursione di Menez, Tiritiello commette fallo e viene ammonito. Calcio di punizione che viene battuto da Bellomo, il destro con Falcone che respinge, poi palla sulla linea, l'arbitro Ross in un primo tempo assegna il rigore, poi in comunicazione con l'assistente Muto dice che è gol. Decisione però cambiata di nuovo poco dopo e viene dato il calcio di rigore, mentre seconda munizione per Tiritiello, per fallo di mano ed espulsione. Dunque dal trentacinquesimo in dieci il Cosenza, dal dischetto Denis il destro, Falcone con la mano di richiamo riesce a respingere. Tutto qui il primo tempo nella ripresa Regina all'assalto, Bellomo, Falcone vola e si difende in angolo. Fa fatica il Cosenza ad uscire dalla propria fase difensiva. Crisetic la piazza, miracoloso qui il portiere in prestito dalla Sampdoria. Sempre Crisetic ci riprova, da lontano la deviazione, si distende di nuovo Falcone. Il Cosenza nel finale torna in avanti, Carretta ci prova, Guarna in due tempi. Tanti i cambi per la Regina alla ricerca del gol. L'assalto, Menezzi in aria, cerca il numero, il sinistro, la traversazione che continua. Scitum, il cross, bitante, tocca, si lamentano i giocatori della Regina, vorrebbero il calcio di rigore ma ha colpito il volto del difensore, il pallone. Non succede più nulla, finisce così, Regina 0, Cosenza 0.